La prossima nostra ospite ci presenta un brano bellissimo che è stato di Edith Piaf, lanciato da Edith Piaf La sua voce è molto forte e potente, lei è Alma Manera Nel piano come fredda, nel marco tutto in me pianica Non, niente, niente Non Mon jeu Regretterai C'epia Balaye OBM Je fous de cossé Avec meus souvenirs Je lembreslt mes fons Mes changras, mes pleasures Non c'è mai più bezzante Balailler les amours E tutto loro tremolou Balailler pour toujours Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Come i giorni Adjudi e Se commence A me croire Come va Se viene buon anno che versione straordinaria Alma Manera, grazie